Musica L'Italia intera si è fermata, bandiera a mezz'asta, minuto di silenzio in memoria delle vittime del covid da Fano, piantato un albero al parco urbano dedicato a chi non ce l'ha fatta Vaccini a domicilio per gli over 80, tutto fermo e agende da rifare dopo lo stop alla Strazenica Il punto con il segretario provinciale dei medici di famiglia Dario Bartolucci Carenza di personale e infermieri bloccati dai contratti La presidente provinciale dell'ordine Laura Biagiotti lancia un appello alla regione per velocizzare la campagna dei vaccini Siamo in una fase d'emergenza e non si può pensare di non svincolare questi professionisti indispensabili per la vaccinazione da questo rapporto di esclusività Furti di gioielli e occupazione abusiva di edifici La polizia di Fano arresta una donna e denuncia tre stranieri sequestrata Un'abitazione nel quartiere di Fenile per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina Diventerà una casa della cultura Palazzo Borgogelli Acquistato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano Entro l'estate terminerà il primo stralcio dei lavori sul tetto e sulle facciate Roberto Mancini, testimonial delle marche per i prossimi anni Firmato oggi l'accordo che lega la regione al commissario tecnico della Nazionale Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia Anche Fano ha partecipato alla giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid Questa mattina al parco urbano di Via della Colonna è stato piantato un albero dedicato a tutti coloro che hanno perso la vita a causa della pandemia La celebrazione che Fano TV ha trasmesso in diretta è stata seguita da Filippo Pucci Un bosco per ricordare le vittime del Covid Questa mattina al parco urbano Polverari La città ha voluto ricordare le vittime del coronavirus piantando questo acero campestre Una cerimonia toccante e significativa dove anche il comune di Fano ha aderito alla giornata mondiale per le vittime del Covid Era il 18 marzo dello scorso anno quando i camion dell'esercito partirono dalla città di Bergamo carichi di bare di chi non è riuscito a debellare il virus Ieri il via libera unanime dal Parlamento per la giornata nazionale e oggi la firma di Mattarella Ogni 18 marzo dunque si ricorderà chi non ce l'ha fatta Al parco urbano hanno partecipato le forze dell'ordine e le cariche civili e religiose che od uno ad uno hanno interrato con una palla l'acero nella parte centrale del campo dando poi vita nei prossimi mesi ad un nuovo bosco per celebrare e ricordare la memoria delle persone scomparse Questo momento ha detto il sindaco Seri ha un significato ben preciso sentirci vicini a tutti coloro che hanno perso un caro ma soprattutto far presente che questa comunità sa ricordare e sa dare speranza Le vittime sono state tante e simbolicamente abbiamo voluto oggi piantare questa pianta che ha tanti nomi per poi ritrovarci ad ottobre per piantare una pianta per ogni vittima che abbiamo avuto Non l'abbiamo fatto oggi perché siamo in zona rossa e non possiamo creare assembramenti ed era giusto farlo insieme tutti quanti anche con i familiari però ecco il significato di piantare una pianta è un modo, è una rinascita e questo è l'elemento che mi piace sottolineare ma piantare una pianta semplicemente non basta perché una pianta va accompagnata, va fatta crescere sana e robusta è come la nostra comunità, la rinascita deve avere questi pilastri e questi valori Una giornata storica e anche strana, ha aggiunto poi il Vescovo Armando Trasarti perché non ricordiamo un atto eroico o un attentato ma ricordiamo delle persone che ci hanno lasciato in maniera sofferente e senza alcun accudimento dei propri familiari Giornata storica è anche perché ci fa ripensare tanti anziani che ci hanno abbandonato Giornata storica è perché ci permette anche di accudire ancora i lutti incoraggiare i rimasti, sostenere le lacrime che non si sono potute versare su un corpo o su una bara Giornata storica è perché ci permette ancora una volta di ricordare quanti si spendono dentro questi ospedali e essendoci stato dentro per motivi miei di salute mia quanti cercano di essere la famiglia che incoraggia, la famiglia che dà la mano la famiglia che sorride, la famiglia che accompagna anche l'ultimo viaggio Bandiere a mezzasta anche nei comuni della provincia di Pesero Urbino è un minuto di silenzio in memoria delle vittime del virus in questo anno abbiamo conosciuto un dolore inedito ha scritto il governatore delle Marche Francesco Acquaroli abbiamo perso decine di migliaia di persone che le famiglie e i propri cari non hanno potuto salutare nel modo più dignitoso il nostro pensiero, ha proseguito, va alle persone che non ci sono più alle 2464 nelle Marche e alle oltre 100.000 in Italia questa ferita deve farci riflettere su quanto sia fondamentale oggi essere uniti nella lotta al coronavirus su quanto anche ciascuno dei nostri comportamenti sia importante per uscire il prima possibile da questa drammatica pandemia e nelle ultime 24 ore purtroppo si è aggravato il bilancio delle vittime oggi nelle Marche sono morte 9 persone tutte residenti nel Maceratese e nell'Anconetano oltre ad un anziano di 88 anni di Foligno i positivi rilevati nell'ultima giornata sono 820 su oltre 6.000 tamponi è sempre la provincia di Ancona a registrare il numero più alto di contagi 319 seguono le province di Pezzorurbino, Macerata, Fermo e Ascolipiceno i ricoveri negli ospedali continuano a crescere in terapia intensiva ci sono 6 pazienti in più rispetto a ieri per un totale di 139 mentre in semi intensiva ci sono 16 degenti in più che fanno salire il dato a 242 oggi pomeriggio alle ore 15 sono iniziati i trattamenti a Marche Nord per i primi tre pazienti con gli anticorpi monoclonali lo ha fatto sapere l'assessore regionale alla salita Filippo Sartamartini si tratta di tre pazienti trapiantati di rene la cui terapia immunosoppressiva è stata sospesa a causa del covid la terapia sarà effettuata dall'equip medico-infermeristica di medicina interna autorizzata come centro prescrittore uno dei 15 nelle Marche siamo pronti a partire con la terapia in tutta la regione annunciato Sartamartini con il coinvolgimento dei medici di medicina generale i pediatri di libera scelta e le USCA che partecipano all'individuazione dei soggetti candidati al trattamento che avverrà sempre in ambiente protetto ed ora torniamo a parlare dei vaccini a domicilio dopo la falsa partenza di lunedì scorso e lo stop per il farmaco AstraZeneca i medici di famiglia sono ancora fermi in attesa di nuove disposizioni lunedì doveva essere il primo giorno per i medici di base per ritirare le dosi di vaccino e somministrarle a domicilio agli over 80 non deambulanti e invece le fiale arrivate in ritardo sono rimaste nelle celle frigorifere oltretutto dopo lo stop al farmaco AstraZeneca deciso in via precauzionale l'intera operazione è rimasta in stand by in attesa del parere dell'EMA a spiegarci la situazione attuale, le prospettive e Dario Bartolucci segretario provinciale della FING, la federazione italiana medici di famiglia avrebbero dovuto darci l'elenco degli over 80 che hanno fatto domanda per essere vaccinati e quelli che non l'hanno fatta c'è la possibilità che quelli che hanno fatto domanda sul sito di vaccinarsi se ritengono opportuno, se credono, possono disdire dal sito la possibilità e hanno la possibilità di farlo dai medici di famiglia questo deve avvenire però 12 giorni prima per dar modo di liberare lo slot di prenotazione avrebbero dovuto darci, prosegue Bartolucci, anche le credenziali per inserire le vaccinazioni sul sito delle poste, ma così non è stato i 270 medici di famiglia convenzionati con l'area Vasta 1 ora rimangono in attesa di nuove disposizioni spero che magari la prossima settimana già si possa, magari se ci danno il Moderna oppure se viene sbloccato l'AstraZeneca ci danno la possibilità di poter vaccinare i pazienti prima gli ultraottantenni a domicilio dopodiché gli ultraottantenni che possono venire nel nostro ambulatorio Quanti sono i medici di base che hanno aderito a questo accordo con la regione? Diciamo che grossomodo sono l'80-90% c'è da dire che adesso con quello che è successo con il vaccino Moderna alcuni medici hanno paura e quindi si chiede uno scudo, diciamo, uno scudo legale non è colpa nostra se esistono delle reazioni quindi non vorremmo essere in questa situazione Poi appena si potrà partire, spiega il Presidente nessun cittadino rimarrà escluso infatti i vaccini verranno somministrati dall'equip territoriali cioè quattro gruppi di medici per ogni distretto Pesaro, Fanno e Urbino seguite da un coordinatore che si interfaccerà con il direttore del distretto se poi ci dovesse essere un medico di base che deciderà di non effettuare le vaccinazioni i suoi pazienti verranno presi in carico da un dottore dell'equip State già ricevendo segnalazioni telefonate da parte dei vostri pazienti? Certo, certo Io personalmente ma anche altri colleghi abbiamo già cominciato a stilare delle liste delle liste in cui il paziente telefona e noi prendiamo il nominativo, il numero di telefono così quando ci sarà l'opportunità di vaccinare la segretaria li richiamerà e stileremo una lista di priorità Quindi insomma si attendono ulteriori informazioni e disposizioni e poi si comincia? Sì, speriamo al più presto appena ci danno i vaccini appena ci danno le password appena ci danno gli elenchi dei pazienti Nessuno ci ha comunicato che le vaccinazioni erano state rimandate la lamentela di un cittadino residente a Monbaroccio che oggi ha accompagnato un anziano suo familiare al centro sociale Monaldi a Pesaro per la somministrazione del vaccino Insieme a noi ci ha raccontato sono arrivate anche altre persone con più di 80 anni che hanno trovato i cancelli chiusi Nessuno ha ricevuto il messaggio di disdetta da parte dell'Asur c'è chi ha preso ferie e chi ha dovuto liberarsi per questo appuntamento ha proseguito è una mancanza di rispetto e su questo abbiamo sentito il direttore dell'area vasta 1 Romeo Magnoni da lunedì sera ha spiegato è uscito un comunicato stampa sul blocco delle sedute vaccinali per le prossime dosi per le prime dosi sono stati anche inviati messaggi e prenotati di martedì nel timore che non facessero in tempo ad apprendere la notizia l'invio dei messaggi hanno spiegato dall'Asur è continuato anche nei giorni successivi anche se ormai era riportata da tutti i canali informativi approfondiremo la tematica per verificare cosa abbia portato alla mancata ricezione degli sms e si apre uno spiraglio per gli infermieri che da tempo chiedono di somministrare i vaccini oggi Angelica Panzieri ha intervistato la presidente provinciale dell'ordine Laura Biagiotti che ha proposto anche a livello locale la discesa in campo della categoria per velocizzare la campagna di vaccinazione tra le richieste quella di svincolare il contratto dei dipendenti del servizio sanitario regionale Fino ad oggi non sono stati minimamente coinvolti nel piano vaccinale già illustrato a livello nazionale dal commissario all'emergenza Francesco Figliuolo dove infermieri ed assistenti sanitari figure che dovrebbero essere essenziali per la vaccinazione non compaiono da qui la delusione di conseguenza la richiesta alla regione da parte di Laura Biagiotti presidente provinciale dell'ordine degli infermieri di modificare quel rapporto di esclusività che intercorre con l'azienda per la quale lavorano e che di fatto non consente loro di effettuare le vaccinazioni al di fuori dell'orario lavorativo un appello a nome di tutti i colleghi compresi gli assistenti sanitari siamo rimasti come professionisti come infermieri veramente delusi da questa opzione perché in questo piano vaccinale si parla semplicemente di figura medica io direi che sicuramente il prescrittore del farmaco dei farmaci sono i medici e questo è un ruolo che nessuno toglierà loro però obiettivamente fino ad oggi a tutt'oggi tutto ciò che è stato gestito sotto le sedute vaccinali c'era assolutamente la presenza dell'infermiere e degli assistenti sanitari ed è una presenza inevitabile indispensabile gli infermieri non mancano non sono carenti nelle nostre strutture territoriali ma bensì sono carenti per il fatto che non possiamo impiegarli al di fuori del proprio rapporto di lavoro significa che su Pesaro che abbiamo circa 2370 iscritti questi non possono comunque operare al di fuori dell'orario di lavoro nell'area vasta o nell'azienda Marche Nord Oggi una piccola evoluzione c'è stata l'avete letto diciamo dai media nazionali Sì abbiamo il nuovo decreto sostegni che ci apre uno spiraglio di questo siamo contenti dove hanno visto coinvolti tutti i nostri colleghi della federazione nazionale con Barbara Mangiacavalli di questo ne siamo orgogliosi dove danno l'opportunità circa 270 mila infermieri a tutt'oggi con un lavoro di rapporto subordinato obbligato di poter operare per intanto muoversi liberamente sul territorio e fare sostegno alle vaccinazioni quindi sì a tutti gli accordi che abbiamo fatto anche a livello regionale ma le nostre aziende pubblico-private il nostro settore della metalmeccanica il nostro settore della falegnameria se non hanno un infermiere ma non uno più di un infermiere che possa operare liberamente insieme al medico noi rischiamo di non fare nessuna vaccinazione di massa in questo momento poi non dimentichiamoci il stracarico lavoro di tutti i nostri operatori sanitari un appello per tutti per carità ma gli infermieri sono sempre in prima linea e non dimentichiamoci che sono da più di un anno che lavorano in emergenza è difficile parlare con una mascherina immaginatevi voi prestare un'assistenza dove gente disperata ha fame d'aria e soprattutto rischia la morte con i familiari che chiamano e c'è tanta tanta difficoltà emotiva non dimenticando che molti di questi infermieri si sono ammalati e sappiamo bene cosa significa ammalarsi e poi tutti i postumi di questa malattia e comunque non hanno mai smesso di lavorare a tutt'oggi il carico di lavoro è elevato le ferie purtroppo non possono essere date perché serve tanta prestanza nei reparti quindi un appello alla regione di non dimenticare questa professione e adesso la cronaca continuano i controlli della polizia di Fano che ha arrestato una donna per furto e denunciato tre stranieri che avevano occupato abusivamente un casolare in zona ex zuccherificio sequestrata anche un'abitazione a Fenile di Fano avevano forzato la porta d'ingresso e sfondato i muri posti a contenimento degli infissi tre stranieri di cui uno già noto alle forze dell'ordine sono stati denunciati dalla polizia di Fano per aver danneggiato e occupato abusivamente un casolare in zona ex zuccherificio le stanze in condizioni igienico-sanitarie molto precarie erano state utilizzate dagli uomini due rumeni e un ungherese per ricavare dei giacigli nella stessa struttura gli agenti diretti da Stefano Seretti hanno trovato anche alcune biciclette sulle quali verranno svolti gli accertamenti per verificarne la provenienza durante i controlli svolti nei giorni scorsi i poliziotti hanno proceduto per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nei confronti di una fanese la donna di 47 anni aveva ceduto il suo immobile situato a Fenile di Fano a uno straniero irregolare sul territorio nazionale con precedenti per droga senza stipulare e registrare alcun contratto le indagini degli agenti coordinati dalla procura della Repubblica di Pesaro hanno portato all'emissione da parte del Tribunale del Capoluogo di un decreto di sequestro preventivo dell'abitazione inoltre al fine di prevenire episodi di spaccio e furti i controlli della polizia si sono incentrati anche nei quartieri di Sant'Orso San Lazzaro e Vallato in totale sono state sottoposte a verifica 150 persone e 65 veicoli un'italiana senza fissa dimore proveniente dalla Romagna è stata arrestata perché destinataria di una misura di custodia cautelare in carcere il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Macerata sulla base degli elementi forniti dagli investigatori del commissariato a causa del suo coinvolgimento in quattro furti consumati nei negozi di Marche e Umbria nello specifico la donna una 45enne già nota alle forze dell'ordine era stata sottoposta a un controllo nel centro storico di Fano dopo essere stata notata dai poliziotti ad effettuare dei sopralluoghi in alcune gioiellerie i successivi approfondimenti avevano consentito di ricostruire il suo modus operandi si fingeva una cliente si faceva mostrare i preziosi dai commissi e poi li distraeva per sottrarre la merce con abili mosse proseguiranno senza sosta i servizi straordinari di controllo da parte delle pattuglie impegnate anche sulla verifica del rispetto delle norme anticontagio frontale tra un'auto e un'ape del comune di Mondolfo oggi pomeriggio intorno alle 16.30 a lungo via Sterpettine sul posto oltre alle forze dell'ordine sono intervenuti i sanitari del 118 i vigili del fuoco di Fano che hanno estratto il conducente dell'ape dalle lamiere e l'eleambulanza che ha trasportato il ferito al torrette di Ancona l'operaio un 57enne dipendente del comune avrebbe riportato la frattura di una gamba illeso invece il 55enne alla guida della Opel cambiamo argomento proseguono a pieno ritmo i lavori a Palazzo Borgogelli in centro storico a Fano grazie all'intervento di manutenzione disposto dalla fondazione Cassa di Risparmio di Fano l'edificio diventerà una casa della cultura acquistato dalla fondazione Carifano il 10 maggio del 2019 per 1.400.000 euro Palazzo Zagarelli oggi Borgogelli avveduti verrà messo a disposizione della città e diventerà una casa della cultura lo scorso anno sono partiti lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile di circa 2500 metri quadrati con ingresso nella centralissima via San Francesco nel centro storico di Fano entro l'estate terminerà il primo stralcio dell'intervento che consiste nel rifacimento delle facciate e nella sistemazione del tetto per la messa in sicurezza dell'edificio il costo di questo primo stralcio è inserito in uno stanziamento che la fondazione ha definito in 800.000 euro che serve per questi primi interventi e quanto alla possibilità di individuare una data per riconsegnare il palazzo alla città è abbastanza difficile oggi avventurarsi in una affermazione di questo tipo dipenderà anche da come andranno le rendite finanziarie della fondazione visto che siamo impegnati su tanti fronti e il momento non è particolarmente dei migliori la contessa Giuliana Borgogeli avveduti che ha offerto in vendita l'immobile continuerà ad abitare nel piano nobile dell'edificio costruito tra il 600 e il 700 tra gli interventi già eseguiti rientrano la rimozione dei cavi e la missa in sicurezza dei dipinti murali e delle decorazioni come quelli posti all'ingresso del primo piano è iniziata inoltre la cernita della documentazione di archivio che verrà catalogata e digitalizzata grazie alla collaborazione di un socio della fondazione il dottor Daniele Di Otallevi per poter sviluppare questo programma si è dovuto in qualche maniera anche poi liberare le facciate da tutti quelli che erano un po' i cavi diciamo delle singole sottostrutture esistenti delle singole infrastrutture dall'Enel la Telecom per restituire un po' quella che è l'architettura complessiva di tutto il complesso una dignità insomma consona e comunque un'emergenza architettonica significativa ad illustrarci invece i lavori strutturali e l'ingegner Lorenzo Zandri il lavoro è consistito nella sostituzione delle travi ammalorate nel recupero di quelle che è stato possibile mantenere sul posto poi mantenendo un concetto generale chiaramente di restauro di risanamento conservativo e quindi è stato poi irrigidito il pacchetto di copertura con un tavolato del compensato OSV non portando oggetti di materiale diciamo più recente e quindi poi una sabbiatura delle parti necessarie e un generale restauro insomma di risanamento Marco quali difficoltà avete dovuto affrontare visto che siamo proprio nel pieno centro storico le difficoltà sono di carattere logistico è un cantiere di grosse dimensioni già far portare i materiali in cantiere è difficilissimo perché non è che possiamo arrivare con dei mezzi di grossa portata e quindi bisogna scaricarli altrove e poi piano piano avvicinarli al cantiere già la stessa gru è stata un'impresa portarla dentro tutta a pezzi montata veramente come degli acrobati poi soprattutto è importante anche la sicurezza perché si tratta di strutture vecchie non sai se decedimenti quindi devi andare sempre passo dopo passo verificare una somma di interventi che rendono il cantiere molto difficile però ecco per noi è una soddisfazione poter mettere le mani su un lavoro del genere ed è ufficiale Roberto Mancini sarà il testimonio al delle Marche per i prossimi anni l'accordo è stato sottoscritto questa mattina dalla Regione dalla Camera di Commercio e dal Commissario Tecnico della Nazionale insieme si possa fare perché veramente credo che sia una delle regioni più belle d'Italia è un grande onore essere testimonial della mia regione speriamo che porti fortuna anche alla Nazionale in vista degli impegni del 2021 sono le prime parole pronunciate dal Commissario Tecnico Roberto Mancini in veste di testimonial delle Marche questa mattina Palazzo Raffaello ha firmato l'accordo che lega la sua immagine alla promozione turistica della regione fino al 2023 è un grande piacere è un grande onore rappresentare oltre che la Nazionale come CT ma rappresentare la mia regione in questo momento non semplice mi fa molto piacere mi fa molto piacere perché chiaramente essendo nato qua insomma sono la bellezza che ha la nostra regione e tutto quello che si può fare insomma e penso che insomma vada veramente fatto il massimo per poter portare più turisti possibili perché è una regione bellissima quindi insomma bisogna fare le cose per bene per cercare di arrivare a questo ed è un ritorno quello del Commissario Tecnico che è già stato testimonial delle Marche da calciatore della Lazio alla fine degli anni 90 sicuramente è un gol importante in termini di immagini di visibilità di riconoscibilità di un territorio che purtroppo è a volte rimasto ai margini delle dinamiche nazionali e internazionali e che invece con il Minister del Nazionale e il Commissario Tecnico del Nazionale Roberto Mancini può acquisire una visibilità e una riconoscibilità che sicuramente per noi è molto importante per questo voglio ringraziare Roberto Mancini per la sua disponibilità in un momento così importante e anche apicale della sua carriera che lo vedrà protagonista in questi prossimi campionati europei nella National League la qualificazione mondiale quindi sfide importantissime e ha deciso in questo momento importante della sua carriera appunto di coniugarsi con la sua regione è veramente qualcosa di importante per noi a siglare l'accordo anche la Camera di Commercio partner dell'iniziativa che vede Mancini come protagonista siamo felici lui è un marchigiano come tutti quanti noi e con lui siamo riusciti ad arrivare anche in altri paesi importanti dove lui è riuscito a vincere e a portare alto il nome dell'Italia sono sicurissimo insieme alla Camera di Commercio potremo trovare quelle sinergie per nel momento in cui tutto terminerà con questa pandemia di farle tornare i nostri turisti sul nostro territorio e di rendere il nostro territorio ancora più appetibile con un testimonio così importante come Roberto Mangini che vedrà nei prossimi mesi vedremo l'azione con la nazionale perciò ecco il livello di immagine sarà sempre più alto Medaglia d'oro per il fanese Enzo Capecchi che oggi ha vinto il titolo di campione italiano Senior Master 65 nella specialità indoor dei 60 metri ostacoli Bene complimenti davvero lo sport a chiusura del nostro telegiornale tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato a una macelleria di Lucrezia di Cartoceto a seguire la cerimonia che si svolta questa mattina a Fano in memoria delle vittime del Covid Buona serata a tutti voi Buona serata